80 foto inedite di scena per raccontare l'opera di Mario Monicelli fra i maggiori registi italiani del Novecento. Saranno in mostra al PAN a ingresso gratuito dal 3 luglio fino al 30 agosto. Questa è una bellissima mostra, è una mostra interessante, completa, che va assolutamente eseguita perché dà un'immagine di Monicelli poliedrica, sfaccettata, come è stata sia l'arte che la vita di questo italiano. Organizzata dall'Associazione HDE col patrocinio del Comune di Napoli, l'esposizione si accompagna a una mostra dei lavori di RAP, nome d'arte di Chiara Rapaccini, basati su 17 fotografie tratte dall'archivio personale di Monicelli. Monicelli è passato a lungo semplicemente come uno dei tre maestri, dei tre cannoni della commedia all'italiana, Risi, Comencini e Monicelli. In realtà oggi, specialmente in un'ottica di critica e storia del cinema molto più avanzate, la figura di Monicelli assume un carattere più completo, maggiore. È un cineasta che ha raccontato l'Italia, sia attraverso anche le sue fasi e le sue realtà comiche, brillanti, ma anche attraverso quelle tragiche, anche attraverso quelle dolorose, anche attraverso quelle politicamente scomode. Al Cinema Metropolitan, dal 3 al 10 luglio, una rassegna cinematografica curata da Giuseppe Colella. Le proiezioni a ingresso gratuito comprenderanno sette film di Monicelli e tre documentari sul grande regista romano. Il cinema è una grande piramide, è una piramide sulla quale i vertici, i cosiddetti capolavori, basta pensare ai soliti ignoti o a Brancaleone per quanto riguarda Monicelli, sono nati attraverso una stratificazione continua e completa anche dei film commerciali, anche dei film di tutti i giorni, anche dei film che hanno reso felici tanti milioni di spettatori negli anni.